Presidente Silvestri, faccio la domanda speculare. Qual è il punto più debole, secondo voi, del Movimento 5 Stelle di questa manovra finanziaria? Intanto zero visione per il Paese. Hanno colpito con questa manovra le classi fragili, i pensionati e anche ovviamente le imprese. Sui pensionati l'ufficio parlamentare di bilancio ci dice che faranno cassa, che questo governo farà cassa per 60 miliardi in 20 anni. Ci sono state tante manifestazioni. Non c'è nulla per lo sviluppo e per la crescita. Fra l'altro nello stipendio che vedrete a gennaio non ci saranno i 100 euro tanto sbandierati perché sono solamente la conferma di quello che avevano fatto i precedenti governi. Stanno facendo cassa perché, una cosa che nessuno sta dicendo, hanno firmato un patto scellerato in Europa che ci porterà nuovi tagli. Non lo dico io come Movimento 5 Stelle, ce lo dice l'Istituto Bruegel, che è uno degli organismi economici europei più accreditati, che ci dice che questo patto che hanno firmato, che la Meloni ha firmato, e che non ha il coraggio nemmeno di commentare, ci porterà nuove tasse per 12 miliardi all'anno per i prossimi sette anni. Non hanno avuto il coraggio di tassare le banche sugli extra profitti che hanno fatto sulle persone, sulla pelle delle persone che hanno visto un aumento dei mutui di circa il 75% e continuano a buttare dei soldi su investimenti morti come il ponte sullo stretto di Messina e nuove armi in un momento del genere, quando poi sulle imprese che generano posti di lavoro e che devono essere competitive a livello globale non hanno messo assolutamente niente. Quindi torna l'Italia, guinzaglio di Germania e Francia, e torna l'austerità grazie a delle scelte e dei trattati firmati in Europa che ci costeranno e costeranno sulla pelle viva di imprenditori, famiglie e le prossime generazioni nuovi tagli e nuove spese. Silvestri, a parti invertite, quale sarebbe stata la vostra priorità? Sempre telegrafico, come è stato Lupi? Ci mancherebbe, allora secondo me ti fare contro il Paese non è l'opposizione e chi ha firmato un patto di stabilità che porta a nuove tasse e nuovi tagli. Detto questo, le cose che andavano fatte è proprio creare una protezione di cintura sociale verso purtroppo una povertà che sta aumentando e la povertà c'è anche in tantissimi lavoratori dipendenti. Un quarto dei nostri dipendenti è un lavoratore povero. Penso ai vigilanti, penso a chi è nella ristorazione, penso a chi è nei servizi. Con paghe da fame, 5 euro l'ora, bisognava investire per dare una dignità al lavoro che avrebbe ovviamente rilanciato anche i consumi. E soprattutto, secondo noi, è stato profondamente ingiusto colpire con altri 2 miliardi di tasse su casa e prodotti come i pannolini e all'aumento dell'IVA su tanti generi di prima necessità quando non si è avuto il coraggio di tassare le banche e andare a prendere i soldi lì dove andavano presi. Allora io faccio questa domanda alla maggioranza, in questo caso al collega Lupi che è in studio. È giusto tassare il nostro sceto medio con altri 2 miliardi quando non si è avuto il coraggio di tassare? In un momento straordinario, sia chiaro, gli extra profitti che le banche stanno facendo e quindi ad andare a tingere proprio a quei 2 miliardi che potevamo andare a ricavare lì. Ecco, noi questo contestiamo ed erano queste le nostre proposte oltre una visione di investimenti per le imprese del nostro paese perché negli ultimi 30 anni abbiamo perso tantissimi settori strategici del nostro paese. Penso all'Automotive o aziende come l'Olivetti e tante altre nostre eccellenze e potevamo continuare a investire su quelle che sono le sfide globali che il nostro paese invece dovrebbe accogliere e soprattutto sfruttare a nostro favore. Presidente Silvestri, la fermo e vado da Lupi. Lei oggi è stato molto duro proprio sull'Europa, cosa su cui chiedo dopo il parere addessario. Proprio sul vincolo europeo che ha pesato sulla nostra manovra. In aula è stato durissimo. Certo, perché noi siamo contrarie a tutto quel ritorno di politica di austerità ma il punto non è solamente cosa deve fare l'Europa perché è molto facile dare la colpa sempre all'Europa è cosa doveva fare l'Italia all'interno del contesto europeo quindi non accettare quei vincoli che avrebbero portato nuovi tagli. Lei avrebbe bloccato il fatto di stabilità? L'avrebbe costruito? No, noi saremmo riusciti a migliorarlo nella stessa misura in cui quando il governo Conte è andato in Europa e l'Europa sotto pandemia ci voleva far firmare il MES che era un prestito sconveniente noi siamo riusciti tramite la forza della persuasione a fargli cambiare idee e portare quei 209 miliardi che oggi Lupi rivendica che arrivano le rate e se ne compiace ma non ci dice una cosa Lupi, quanti di questi miliardi che stanno arrivando voi ne avete spesi? perché a noi arrivano dei dati allucinanti sulla sanità spesi dei miliardi che abbiamo a disposizione solo una cifra irrisoria quindi quello che vi voglio dire non è solamente prendere le rate e poi metterle a terra e il fatto che Lupi non mi abbia risposto prima sul ceto medio se era giusto prendere gli extra profitti bancari e darli ai cittadini perché qui non si sta parlando di Airbnb qui si sta parlando che avete aumentato l'IVA sui generi di prima necessità quindi cerchiamo di essere onesti già il fatto che non ho avuto nessuna risposta è comunque una risposta 45 secondi a testa sul tema dell'accordo sul super bonus di ieri nella maggioranza Silvestri e poi Lupi è un accordo che non ci soddisfa ma non è che non soddisfa noi non soddisfa nemmeno gli esodati che erano in piazza a contestare perché? perché fondamentalmente non viene garantita la proroga per chi in questo momento ha i ponteggi a casa grazie al fatto che il governo non è riuscito a fare un regime di transizione ma soprattutto il super bonus era una misura che il governo Conte ha messo in atto e aveva un tempo limiti di tre anni va bene? serviva a rilanciare l'edilizia una misura può non piacere ma non si fa mai in qualsiasi tipo di governo gravare il cambio di una decisione politica sulla pelle delle persone e poi c'è una contraddizione in termini prima di tutto ci sono delle bugie perché tanti istituti d'economia hanno detto che è stato un elemento virtuoso poi c'è una falsità di fondo Lega e Fratelli d'Italia proponevano la proroga del super bonus quando gli servivano i voti proprio a proposito di campagna elettorale fino al 2025 fino all'anno scorso e poi una domanda solamente è stato modificato la questione dell'Isee fino a 15.000 euro e nei condomini dove ci sono persone che sono sotto i 15.000 euro e altre persone che sono sopra i 15.000 euro che facciamo? rifacciamo solo metà condominio? si rende conto di quanto è fatta male e quanto hanno ragione le persone a protestare in questi giorni?